Finisce qui, è finita, partita posso dire rubata, posso dire rubata, posso dire rubata, e dico rubata perché è una partita rubata secondo me. Espulsione di Pietro giusta, intanto finisce 0-0, tre punti veramente rubati, rubati perché li meritavamo, un rigore eclatante all'ultimo, la prende di mano nettissimo, cioè non c'è da discute. E' più un'espulsione due minuti prima di Obiang, ha tipo piede e martello su Pellegrini, cose assurde. Che cosa bisogna dire? Che cosa bisogna dire? Roba inesistente, un rigore assurdo, un'espulsione nettissima. Quindi niente, per me posso pure finire qui, non voglio parlare della partita sinceramente, non voglio parlare più, durerà un minuto, non me ne prega niente. Finisce 0-0 una partita rubata, tre punti che dovevano essere nostri, subito, cioè dovevano darci tre punti e basta. Espulsione a Pietro giusta, anche se è stato lì, ha fatto errore gravissimo da uno come lui, poi di un'esperienza come la sua, non doveva succedere questa cosa, ma il rigore all'ultimo c'è eclatante e l'espulsione peggio mi sento, quindi vabbè. Chiudo qua il video, 0-0, domani nemmeno uscirà la live reaction perché non siamo riusciti a farla, quindi niente, basta dai, chiudiamo sto video. Chiudo qua il video.